Colpiscono nel mondo oltre un miliardo di persone e causano più di mezzo milione di morti l'anno, senza contare le invalidità permanenti e hanno nomi a volte impronunciabili. Sono le malattie tropicali neglette, un gruppo eterogeneo di 20 patologie, molte delle quali a carattere infettivo, causate da virus, batteri, funghi e tossine. Neglette perché sono malattie dimenticate dall'agenda politica e anche dalla ricerca scientifica, invisibili all'opinione pubblica e diffuse soprattutto tra le popolazioni povere e marginalizzate che vivono in paesi in via di sviluppo. Ma anche l'Italia non è immune, con oltre 4.000 casi l'anno, sottostimati rispetto alla reale incidenza che è almeno 10 volte di più. Per migliorare la conoscenza di queste patologie, in occasione della giornata mondiale del 30 gennaio, all'ospedale di Negrar si terrà un incontro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dell'IRS di Negrar oramai da più di 30 anni si occupa di patologie neglette o meglio di persone neglette dimenticate che hanno patologie neglette. Quindi questa è una nostra assistenza a coloro che hanno queste patologie ed è anche il nostro contributo al diritto alla salute per tutti. Per questo motivo, perché ovviamente svolgiamo questa funzione anche con un'importante rilevanza scientifica, siamo stati insegniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come centro di riferimento dell'OMS per la strongiloides e altre malattie neglette. Il Covid-19 ci ha dimostrato ancora di più quanto sia importante la salute globale, ossia considerare i viaggi, i viaggi di persone, di cibi, di animali, di insetti e quindi anche di ricevere qui delle patologie che non avremmo mai pensato di ricevere. Questo è un altro aspetto molto importante del nostro Dipartimento che da anni si occupa di salute globale. Sono malattie dimenticate dalle agende politiche, dimenticate dagli finanziamenti per la ricerca nonostante affliggano miliardi di persone nel mondo. Questo perché sono legate strettamente alla povertà e spesso associate appunto a contesti distanti da noi. La giornata per le malattie tropicali neglette è importante per ridare luce verso queste malattie che sono legate sì alla povertà e quindi è una questione anche di equità sociale. Quindi queste persone che hanno uno stigma spesso nei loro paesi hanno difficoltà a trovare lavoro, hanno difficoltà nel senso di abbandono scolastico. Però dobbiamo ricordare che queste riguardano anche noi, come si muovono le persone, si muovono vettori per la trasmissione delle malattie. come abbiamo visto con la questione del Covid non possiamo più considerare ogni malattia distante da noi. Quindi è importante affrontarle anche a livello di ricerca per sapere come affrontarle a livello globale.